A Montoro e Alvomano due medici del distretto sanitario di base che hanno pazienti nel comune montano sono risultati positivi al covid-19. Dopo la notizia la ASRA ha immediatamente attivato tutte le procedure per il tracciamento dei pazienti che sono venuti a contatto con il personale medico positivo. Circostanza che ha nuovamente seminato paura fra la popolazione che teme di ricadere nella situazione di ottobre scorso quando un focolaio ha causato un'impennata di casi creando apprezzione malattie e lutti. Due dottoresse di base che generosamente hanno fatto visite domiciliari non a positivi ma a persone con febbre sintomi e quant'altro quindi una storia completamente diversa da quella che successe a fine settembre inizio ottobre che riguardava proprio l'UCCP. Abbiamo già ricostruito i contatti diretti e per estrema cautela faremo un tamponamento a tappeto anche a quei contatti che non sono prettamente considerati diretti dalle direttive del ministero ma per estrema garanzia lo faremo lo stesso. I locali in cui erano i medici sono stati sanificati e il sindaco il titonante ha annunciato che nei prossimi giorni si organizzerà un drive-thru per tutti coloro che sono stati a contatto con i medici risultati positivi al tampone. Già ricostruiti i contatti e già definiti i tamponamenti che verranno fatti in settimana. Qual è il messaggio che vuole dare alla cittadinanza? Che rispetto all'altra volta siamo molto più preparati, siamo consci di quello che dobbiamo fare ma tanto dipende da loro perché il virus c'è e quindi tutte le accortezze, distanziamento, pulizia delle mani e mascherine. Questo è una protezione fondamentale. Grazie.